8 amanti della pasticceria selezionati online grazie all'invio di dolci e ricette si sfideranno nel corso di 7 puntate per contendersi l'ambito titolo di Re dei Dolci. A partecipare al programma sono stati concorrenti provenienti da diverse parti d'Italia, il romano Roberto Granato, la napoletana Raffaella Nastro e di siciliani Tommaso Lamilia, Giussizito, Antonella Bonanno, Vera Lanza, Claudio Adelfio, Antonio Sardina. Sweets King è un format inedito legato al mondo della pasticceria ideato dall'autore e regista Roberto Marco Oddo e condotto dalla giornalista di cultura e spettacolo Alessandra Costanza. La trasmissione è prodotta dal gruppo Media One e patrocinata dall'istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo, scuola che rappresenta una delle eccellenze alberghiere con il più alto numero di studenti d'Italia, diretta dal dirigente scolastico Vito Pecoraro. Il format è stato girato interamente all'interno della prestigiosa Mag Master Academy Antonino Galvagno. Ogni puntata vedrà protagonisti due sfidanti che in 25 minuti ciascuno dovranno realizzare nella prima fase del programma il proprio dolce cavallo di battaglia. Protagonisti della prima puntata saranno il romano Roberto Granato contro Tommaso Lamilia direttamente da Sancipirello. A valutare le performance e soprattutto il dessert dei concorrenti in gara saranno tre temibili giudici pastry chef. Pietro Pupillo, Santi Palazzolo, Giovanni Catalano. Per ogni puntata il voto dei giudici avverrà al termine dell'assaggio e con l'assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due aspiranti pasticceri. Le otto puntate del format Swiss King saranno articolate in tre fasi. Nella prima fase i concorrenti presenteranno il loro dolce cavallo di battaglia, nella seconda fase una rivisitazione di un dessert tipico della tradizione siciliana e nella terza, ossia la finale, dovranno realizzare una ricetta con ingredienti al buio. Swiss King è un format cool, glamour e interattivo dove il pubblico è chiamato ad interagire con i protagonisti del programma e soprattutto con i concorrenti attraverso l'iniziativa Social Sweets, dove le dolci ricette inserite online possono essere votate dai followers che decreteranno al termine delle otto puntate del programma il vincitore Swiss King Social Award, ossia il concorrente più amato dal pubblico di YouTube. Non vi resta che attendere la prima puntata di Swiss King, che andrà in onda sabato 24 aprile alle ore 15 su Tele One, canale 19, in replica domenica 25 aprile alle 10.45 e alle 21.15 ed in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l'app Tele One e i social network YouTube, Facebook ed Instagram.